Sulla possibilità di ospitare i giochi olimpici invernali del 2026 in Italia, il punto vero è, e ne ho parlato con Giorgetti e Malagò, capire quali possibilità abbiano le tre candidature italiane di Torino, Milano e Cortina. Io avanzo quella di Milano perché può essere la più forte, paralo del sindaco della città Giuseppe Sala. Senza polemiche, ha aggiunto, rimango convinto che non sia facile che a soli 12 anni di distanza vengano riassegnate le Olimpiadi a Torino e quindi sarebbe stato meglio lavorare insieme Milano e Torino. Per il grande evento inoltre, un palazzetto dello sport nella zona di Santa Giulia e il villaggio olimpico nell'ex calo ferroviario di Porta Romana potrebbero essere le due grandi eredità dell'Olimpiade invernale del 2026, se la città dovesse vincere la candidatura e spuntarla su Torino e sulle Dolomiti. Il progetto del palazzetto c'è ed è chiaro che se ci fossero finanziamenti pubblici diventerebbe più facile realizzarlo, ha spiegato Sala. Noi abbiamo intenzione di andare avanti lo stesso con il progetto, ma in questo momento ovviamente sarebbe un grande acceleratore l'Olimpiade. Un'altra eredità sarebbe il villaggio olimpico perché a Milano c'è fame di abitazioni a prezzo contenuto.